Ben tornati ragazzi nel canale, siamo nei duelli qua su For Honor, sempre qui con il Warden, con questo affetto bellino. Siamo contro Norochi, ragazzi, è tipo il primo, no, secondo game del gioco. L'intenzione è di stare passivo tutto il giorno. Ehi, vecchio. Vecchio. Secondo me non era un gran trade. Che fortunello. Posso affermare con certezza che quel Perry non era una cosa voluta. Questa è stata una caccata e qui abbiamo vinto. Comunque continuo a fare pesanti alti, escono laterali perché, boh, non lo so. Ragazzi, faccio schifo con il Warden, lo uso solo perché, boh, è figo e volevo rendervi gli occhi belli. D'altro anche sta lama è tanta roba, sta lama è bellissima. Sì, sì, è bello il mio Warden, è un bello Warden. Però, boh, più che altro il gameplay è... Uff, noioso, cioè... Comunque quel Perry di prima non lo volevo fare, eh. E mo? Lo lasciamo andare? No, ha vinto il 50-50, vabbè, vabbè, vabbè. Ok. Ok, continuo a fare delle cose lì che non escono. No, porca troia, perché ho fatto un pesante laterale pensando in un Perry? Ma sto scemo, eh, peccarezza, quel Riptide Strike là, ci ho preso. Non so come si chiama, vabbè, comunque il passetto indietro con le genie in avanti. Non so, mi ha preso, era un Perry, però non... no. Quindi niente. Peccato, cioè, poteva essere già finita la cosa, invece... Dobbiamo andare avanti. Vabbè, ma alla fine è un Orochi, quindi... Mi diverto anche abbastanza a giocarci contro. Scusa. Ma cosa l'abbiamo preso? In mezzo al palo l'abbiamo preso. Schiva. Fortunato, fortunato, ci sto. Questa era una schivata, ma... No, il gioco ha detto noop. Allora... Minchia, la guardia era lì, però. Oh, cosa? Scusa. Cogè? Sì, vabbè, là entra 400 millisecondi, quindi... Sì, si può parare, ma io sono stupido e poi, beh, ci sta. Ho appena iniziato a giocare, quindi... Ci sta, ragazzi, adesso, pausa pranzo, è l'una. Approfittiamo del tempo che abbiamo per fare qualche registrazione e poi si torna operativi. Diciamo. Allora, dai. Dai, bro. Ok, questo tizio gioca leggermente passivello. Fortunello, lui. Ok. No, ragazzi, faccio tanto schifo con i Warden. Che fortuna! Però che fortuna ha! No! Sì! Dai! Sì! Ragazzi, in realtà lo volevo fintare, ho sbagliato tasto! Volevo fintare, l'ho schiacciato la Ipsilon per l'emote! Che culo! Che culo! Non ho comprato l'emote per sto personaggio, eh. Non le ha proprio. Ah, due esecuzioni. Fine. D'altro. Andiamo ancora a fare quella bella. Cioè, in realtà quella bella è quella lì, semi nuova, che abbiamo. Andiamo qua perché, boh, la non mi piace, è troppo scuro. Scusa. Veramente era schivatissima. Oh, finalmente è andato sto cavolo di attacco. Ce l'abbiamo fatta? Abbiamo vinto. Nice! Eh, cioè, è forte il Warden. Io ho giocato no male di più, però... Questa comunque è quella che piace a me di eseruzione. Dai, prossimo duello. Minchia che lungo, sei minuti di duello. Va. Va. Ehm, beh, siamo contro lo tizio di prima che, a quanto pare, se l'è presa e ha sfoggiato 36 in autorità di Warden. Noi, boh, siccome ci teniamo alla varietà, usiamo questa cosa qua. Eh, veramente, il mio leggero dov'era? Cazzo, non è col pesante. Non è col pesante il coso, merda. No, ragazzi, che coglioni. Ok, abbiamo vinto. Ragazzi, non c'è danni, sto personaggio. Abbiamo vinto. Almeno abbiamo una zona a 400 millisecondi, è il massimo, cioè, ragazzi. Questo facciamo, anche l'effetto di Medusa, che è usceno, ma l'ho comprato perché era 15.000 ancora quando è uscito. Tipo, stagione 6, una cosa del genere. Forse stagione... no, stagione 6, mi sembra. Purtroppo, cioè, è tipo, inutile anche fare... Ha finito? Eh, va bene. Che cagata. Beh, buono, per lui è stato bravo, ha fatto un bel crash, crashing, crashing counter-strike. Ragazzi, però qua no, dai. No, basta, sei morto. Ti ti beggo. Sei morto? E vabbè. L'ho fatto anche un paio di parry, non di cose, ma sono attacchi a 500 millisecondi, quindi è fattibile su PC. Però, dai, meglio che niente. Cioè, incredibilmente lo sto facendo meglio con la pacificatrice che con il guardiano, ma... Vabbè. Vediamo se riusciamo. Ovviamente no. Quando mai? No. Facciamo due, perché sennò, qua... Mi stai, stai l'inganno? Ehi. Voglio finire con un deflect. Possiamo riavere la stamina? Vabbè, sentite. Cioè, sto tipo qua mi fa imbarazzo. Si fa figo tutto quanto, ritorna col guardiano perché vuole fare vedere che lui è forte e perde. Prossimo duello, va là. Sì, va bene. Ti andi. Cioè, mi dicono che ha giocato bene. Cioè, ha aspettato un attacco, fine. Quello era schivato, vabbè. Secondo te no. Ah, crepa, vaffanculo, eh. Ma che c'ho... C'ho l'alsale adesso, eh. Perché, eh, questi Shaolin che trovo in giro non avete neanche idea. Cioè, due volte che mi trovo lo stesso tizio del cacchio con lo Shaolin dei Maroni. Stupido personaggio. Cioè, se hai notorietà di Shaolin, gioca come uno a notorietà zero perché è quello che deve fare. Cioè, non c'è assolutamente abilità in quel personaggio. Non in quello che io stia usando ora ce ne sia. Ma almeno... E mo' sei senza stamina, però. Fortunato, fortunato. Vabbè. Leggero a caso, non... Cioè, ha schivato, nel senso ha sbagliato lui a schivare senza motivo, qui. Qui non è che c'è una questione di irreagibile. Il leggero... Il neutral del... Del berserker sono irreagibili. Eh, si fanno i parry senza problemi. Sono 500, si può fare. Ora facciamo pesante, pesante, pesante. Si è girato. Fai i parry? No, scusate, c'è... Ero lì che dice, vabbè, voglio ucciderlo con un deflect e poi... Ci lasciamo stare, dai, dai. Prossimo video, ragazzi. Ciao.